ecco caro cari amici mi trovo qui davanti a san pietro di fronte al mio lavoro guardate il sole che cosa che effetto incredibile un'ostia antica sembra un'ostia gigantesca guardate sopra il tetto dei palazzi del vaticano è una cosa incredibile un fenomeno assurdo veramente il vaticano e san pietro sono chiusi per il coronavirus dopo il decreto di giuseppe conte di ieri e guardate il sole che che cosa che fenomeno impressionante cari amici qui veramente il padre eterno ci sta dicendo qualcosa io sono davanti davanti al portone del della chiesa della misericordia in via della chiesa della santa maria in traspontina